Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo nella Mangiaschiapp challenge e buone parole, consiste in un barattolo con dentro dei bigliettini con scritto il cibo che dovremmo andare a mangiare, abbiamo preso un po' di cose schifose, un po' di cose schifose e ci sono anche delle cose buone. Iniziamo subito, e quando andremo a pescare dovremmo dire se scartare il cibo o mangiarcela, iniziamo subito, abbiamo un mangio e uno scarto, quindi pescane uno, questo qua, mangio, lardo macinato, mamma mia, guardatelo, mangia un pezzettino, le cucchiaini sono sparite, no mi prendo il coltello con cui va, voi non potete capire, Non potete capire, guardate quanto ne prendo, ci siamo Ok adesso, mentre lui va a scutare, se lo scuta è scema, io vado avanti Mangio scarti? Lo mangio Parmigiano, onesto, non c'è il parmigiano Nooo Rifai qui No, c'è 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 No, ah sì c'è Rifacciamo Ok, ce l'ho messo parmigiano Mangio scarti, mangio scarti Mangio Mangiatelo perché lardo macinato è una cosa, veramente, diamo un po' acqua e sale acqua e sale questa fa male è sale è sale è sale vediamo un po almeno due sorsi due sorsi ok intanto andiamo avanti io non conosco in tanni dei denti ma sa che schifo acqua e giusta e però devi scartare perché c'è uno scatto no no vabbè la mangio la bevo si può mangiare acqua zucchero è mangiabile è bevibile anche se ce l'ha messo ora stai arrivando scusa se non fa puntare perché no acqua e zucchero ok questo tocca a me se ne ha talmente tanto dai qui lo mangio liquirizzi a cioccolato pillole anticoncezionali vuoi vedere guardatevi di come sono fatte come sono l'apre di me perché sono veramente che stifo me la godo che bontà mangio ok mangio attenzione nessuno ancora scartato ora ciò ora ciò un bel punto da solito bene allora questa challenge finisce qui finisce qui e noi ci vediamo al prossimo video ciao